Salve a tutti ragazzi, qui TtD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua per parlare finalmente di LR Super Vegito e LR Buan Finalmente, ragazzi questi sono gli artwork, l'hype è reale, finalmente Sì sì, per tutti quelli che dicono, no Super Vegito, sì sì, credo che se avete visto già tutte le robe ero qua alle 4 del mattino, sì Quando è uscita tutta la roba, le ho viste, wow, ero stanco morto però vabbè, lasciamo perdere Finalmente sveglio, si fa video su tutto quello che è uscito con il data download perché c'è molta roba Non ci sono ovviamente ancora le nuove unità, Buane Vegito e LR non esistono ancora in game, ok? Non esistono ancora, stanno facendo come per l'anniversario ragazzi, quindi siamo praticamente 24 ore di distanza, una roba del genere, dal rilascio prima di tutto delle Memorial Dragonstone Che sono i nuovi ticket per la download celebration, però comunque i PG ancora non ci sono Facciamo un attimino il calcolo, allora, hanno fatto un data download il 27 28 inizia la celebrazione, io credo che per il 28 notte, come a gennaio per l'anniversario Il 28 notte vedremo, il 29 notte vedremo le unità, quindi dovrebbero essere già in game le unità E il banner anche droppato Ora, timeline un attimo degli eventi prima di iniziare con questo video Oggi alle 5 andiamo a vedere Goku Super Saiyan 3 ragazzi, quindi preparatevi per quel video Però domani e dopodomani sarà pieno di altra roba, ok? Cerco di rilasciare lo showcase prima delle pull dei due PG nuovi, ok? Però capiamoci un attimino l'orario sarà un po' strano, ok? Potrebbero arrivare dei video la mattina per le due nuove unità e poi il video pull subito dopo Quindi questa è un attimino la timeline degli eventi per il 29 Detto questo, comunque, ragazzi, ora, bando alle ciance Lasciamo perdere ora tutte le altre cose Iniziamo a parlare un po' di tutto quello che è stato aggiunto in game C'è un po' di roba, anche se poca, però ce n'è Intanto abbiamo il nuovo trailer che lo guardiamo subito Questo è il trailer ragazzi, quando lo gate domani, domani Domani, quando lo gate, avrete questo trailer Che fa vedere tutti i boo La musica è anche carina E preparatevi Preparatevi quando vedete Vegito Questa è l'animazione della trasformazione Yosha Ok Eccoli lì, super Vegito, LR L'hyper reale L'hyper reale L'hyper reale Soprattutto, vabbè, lo vediamo un pochino meglio Questo è Vegito, ragazzi Devo dire, l'arte è bellissimo Ma è bellissimo anche l'arte di Buan Bellissimo anche questo Ora, parlando un attimino Dovrebbero partire a Butenks E Goku e Vegeta base Una cosa che possiamo vedere dopo Dopo l'andiamo a vedere su Dokkan Wiki Perché è buono un Goku e Vegeta base Invece di altre forme, ok? Però dovrebbero essere proprio quelli Ora Oltre questo Queste sono le due carte nuove Sappiamo cosa sono esattamente Buan, LR, Vegito LR Tutte le cose belle Sono fighissimi Se questi sono gli art Sono Bellissimi, fine È veramente un art bello Però, lasciando perdere questo Ragazzi Abbiamo, prima di tutto I due nuovi wallpaper Questa sarà anche la loading screen Ragazzi Quando entrate in game Vedrete Gohan Gotenks E infine Vegito E questo dovrebbe essere Il nuovo wallpaper Che daranno È bello, sinceramente Se non sbaglio Viene tipo O dal manga O era una Un disegno di Toriyama Comunque sotto ci dovrebbe essere Bu Se non sbaglio Quello è il disegno Peccato che non c'è Bu qua Così Che teneva sulla roba Cioè Dovrebbe esserci Bu così, no? Bu che teneva la La scritta Dragon Ball e tutto Però comunque è carino C'è anche Krillin qua Vegeta Goku che guarda in basso È un po' brutto che Goku guarda in basso Senza avere Bu, sinceramente Cerco Fatemi un attimo vedere se trovo L'illustrazione originale Ok, l'ho trovata Perfetto, sì Questa era l'illustrazione originale Ecco, quello che dicevo Che è un pochino brutto Di questo wallpaper È che non essendoci Bu qua sotto Goku che guarda in basso È un po' strano Nel senso Vabbè Come wallpaper guarderà Gli eventi praticamente Però Ci stava di più se c'era anche Bully Va bene comunque Comunque sono Sono comunque carini Esti Sono comunque carini questi Questi artwork Perché questo comunque era Le cose più inutili Ok Passiamo ora a tutto quello che riguarda Un attimino le cose più importanti Abbiamo anche le due nuove carte Free to play Mister Satan e ovviamente Il nuovo Goku Che guardiamo fra poco Perché Dokkan Assets Prima ci sta caricando un po' Tutte le Eccole 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 Dovrebbe essere nei treasure Fatemi vedere subito Appena la vedo Eccola qua Sì Questa qua è la nuova Memorial Dragonstone Che dovrebbe uscire Praticamente la dovrebbero dare Nel giro di 24 ore ragazzi Quindi dovrebbero iniziare a darle Nel giro di 24 ore Se funziona come i ticket Con calma Lo voglio dire esattamente Com'è la situazione Con calma Riceverete tutte le vostre Memorial Dragonstone Con calma Non è una roba che vi trovate Per forza subito nei login Molte volte vengono date Anche con ritardo Quindi Diciamo State calmi Arriveranno per tutti Tranquilli Solo potrebbero Metterci un pochino Oltre a questo però Stanno aggiungendo Stanno aggiungendo La God Dragonstone Rossa 11 Quindi questa Probabilmente sarà come Primo login Della Worldwide Celebration Download Quel che è Scusate non me lo ricordo Mai a memoria Numero 11 E poi abbiamo anche La Premium Superstone 6 La Purple Quindi quella per comprare L'LR Come Come l'anniversario Stessa Stessa identica cosa Ovviamente Dovrebbe essere la stessa Che se comprate Tre di queste Vi prendete Un LR Una roba del genere Ok Però abbiamo comunque Anche finalmente La Memorial Dragonstone Quindi Ora l'abbiamo in game È tutto Come già detto Più e più volte Funzionerà come i ticket Ogni 50 Dragonstone Spese Verrà data Una Memorial Dragonstone Quindi Più stone Avete speso Nell'arco Del Milioni 300 milioni Al Worldwide Celebration Download Tutte le stone Che avete speso Per fare Qualsiasi cosa Una summon Single summon Avete speso Per ricaricare La stamina Avete speso Per aumentare Il box Avete speso La stone Per riniziare L'evento Eccetera Eccetera Andrà nel Conteggio Delle Delle Memorial Dragonstone Ok Quindi Più stone Avete speso Più Memorial Dragonstone Riceverete Ora Aspettiamo domani Esattamente Perché in game Ancora non è attivo Il Babashop Con questo item Quindi Non sappiamo Effettivamente Quanto Costerà Un ticket Quanto Costerà Un pg Non sappiamo Ancora niente Quindi ragazzi Per ora Calma e sangue Freddo Ok Si aspetta domani Per quello Ora Passiamo Finalmente Alle ultime Due cose Del video Che sono Le due nuove Carte Free to play Secondo me Ci passiamo Subito Sono solo SSR al momento Quindi Sarà Prima parte Di questo evento Seconda parte Il tour Potrebbe essere Una roba del genere Terza parte Eza Puzzan tanto Di Eza Più che altro Ok Puzzan tanto Di Eza Perché È un Int type Chi più Una Cappiata Kendef 25% Ok Che con Il tour Potrebbe andare A 50% Ma puzza Veramente Di Eza Supreme Damage To enemy E nient'altro Attack Death 70 Races Attack Death Buy up To 20% The more HP Remaining The greater The stats Boost Non credo Non credo Che facciamo Lo showcase Per queste Carte Al momento Fanno Diciamolo Per quel che è È un SSR Senza il tour Riceverà probabilmente Il tour Sì Ma fa schifo Per ora Quindi Ragazzi Chiariamoci un attimino Lo showcase Non lo porto Al momento Porterò lo showcase Di queste due carte Quando riceveranno Il tour Che si possono Già utilizzare Così sono Lo schifo Dello schifo Dopodiché Questo qua E Mr. Satan Majin Busaga Categorica 1 HP Attack And Death 30% Races Death Causa Huge Damage To enemy C'è Capiamoci A huge Damage Ok C'è Wow È shaftatino È Ercule Passiva Abbiamo Medium Chance Di evadere Gli attacchi Inclusi Gli super Attack Che riduce Il danno Ricevuto Dal 30% Quando gli HP Sono Superiore Al 50 Potrebbe diventare Qualcosa Di molto Più carino A tour Ma soprattutto Io ripeto Sta roba Viene da Un Sta roba Avrà unezza Per come Sono fatte Le carte Così Sono super 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 Mega Deboli Quindi Probabilmente Riceveranno Unezza Ok Nel giro Della campagna Dei download Probabilmente Vedremo unezza Per questi due Sono ridicoli Ad SSR Almeno fanno schifo Ora Passiamo All'ultimo Discorso Che volevo Fare Che è Quello Di Vegito E Di Buon Ok Perché Un bene Che alla fine Siano Loro E non Altra roba Prendo in Questo Caso Goku Ok Eccolo Qua Perché Una cosa Buona Prima Di Tutto Questo Goku E Vegeta Non è Nemmeno Per Non è Nemmeno Canonico Ok Vegeta Quando Torna Quando Torna In Vita Tra parentesi Tra virgolette Quando torna In vita È Angel Vegeta Perché È morto Viene dagli Inferi È stato Ressuscitato Da Baba E Da Oddio Non mi viene Mai il nome L'hanno Ressuscitato Per dare Una mano Per vedere Se riusciva A fare Qualcosa Contro Bu Ok E lui È D'Angel Non È Base Infatti Questo Non deve Essere Majin Bu Saga Questo Non può Essere Majin Bu Saga Perché Vegeta Dovrebbe Avere L'Aureola Il Nuovo Vegeta È Goku Vegeta È Angel Quindi A prescindere Ok Da quello che fanno Se sono Super Saiyan Se non sono Super Saiyan Un Cambia niente A prescindere Si potrà giocare Con L'LR Di Vegito Int Ok Si potrà giocare Con l'LR Di Vegito Int Perché il loro nome È Super Saiyan Goku E il Super Saiyan Vegeta Non c'è l'Angel Nel Super Saiyan Vegeta E voglio ricordare Che qua Vegeta È morto Ancora Il Nuovo Bu Dovrebbe Partire Da Bu Tanks Ok Almeno Quello È scritto Nel Nel Document Preview Del Nuovo Bu An Ok Il In quel Modo Vediamo La trasformazione In Bu Ok Ci sta Ci sta In realtà Che sia Butenx Perché di partenza Non c'è nessun Butenx Buono Tranne questo Che ok Potrebbe ricevere Un Eza Ok Però È un po Nel senso Cioè Si si La però Non fa nient'altro Si attacco 100% Li manca difesa Li manca un casino Di roba Ha un superclass Enemy's death Meno 50 Che non fa Comunque Non è tantissimo Però comunque Per alcune Per alcune cose Tipi counter È molto utile Però vabbè Lasciamo perdere Nel senso Diciamo che Questo non è Il Bu Bu Migliore del gioco Ok Quindi partendo A Butenx Non rompe le balle In nessun modo Diciamo che Se partiva Buon Già poteva essere Una rottura Perché c'è Buonint Ok Buonint Eza Può essere un po Una rottura Per come la vedo E non partendo In altri Diciamo che Per come la vedo Avremo La nuova LR Al primo posto Dei Bu Subito dopo Majin Buu Good E Majin Buu Più Revol Perché sono Un mostro assurdo Subito dopo Il Buff Buu Dov'è? Questo qua Quello che ha ricevuto Leza Di recente Con la celebrazione Di Gohan Quando vuole Aprire la carta Grazie Questo Buu È terzo Fra i Buu E poi Probabilmente Buu fisico È quarto Ok Questa è tipo La classifica Dei Buu Quindi è buono Che sia un Buono che sia Un Buu Non rompe le balle A prescindere Partendo da Super Buu Non rompe le balle A prescindere Partendo da Tipo un Buu Grasso Che non ci permette Tipo di giocare Questo Buu Buu fisico Che è un'ottima Unità Quindi ci sta Ragazzi Queste sono le due unità Chiariamoci L'hype ora esiste L'hype ora Esiste completamente Per queste due unità Ok L'hype è reale Si aspetta Il 29 Per le carte Le pull ovviamente Quindi Aspettiamo ancora Un giorno Praticamente Detto questo Comunque Spero il video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Fatemelo vedere Lasciate un bel mi piace Commentate ovviamente Se siete nuovi sul canale Considerate l'iscrizione Ragazzi Vi ricordo Che potete seguirmi Sulla pagina Facebook Instagram E Twitter Tutti i link Li trovate sotto In descrizione Detto questo Noi Ci becchiamo Al video delle 5 Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti